C'è Patrizio Roversi, ma non è Turisti per caso. Ci sono Max Gazzè, Paola Turci e Marina Rey, ma non è Sanremo. Ah, e c'è anche Teresa Mannino e Luca Clovas, ma non è nemmeno Zelig. È Sherbet Festival 2007, il festival del gelato artigianale. Quello buono, quello vero. Vieni ad assaggiare. Dal 19 al 21 ottobre a Cefalù sarà festa, la festa del gelato. Info su www.sherbetfestival.it o 091 832 30 897. In collaborazione con Carovana per l'Orientamento. Vieni a trovarci, ti guideremo nelle tue scelte. Informati su carovanalavoro.info Progetto cofinanziato dall'Unione Europea Port Sicilia 2000-2006 e realizzato dal Ciappi di Palermo.